Buongiorno a tutti, oggi è domenica 14 gennaio, è quasi ora di pranzo e continuiamo la carrellata sui cicli superiori degli indici e su Bitcoin per prepararci alla settimana che sta per arrivare. Questa volta parleremo di MIB, abbiamo fatto S&P 500, Nasdaq prima della fine della settimana, DAX ieri e adesso tocca all'indice italiano. Innanzitutto vi faccio notare che siete sul canale di una persona, di un trader professionista che per adesso nel suo canale premium ha raggiunto 6 trading gain su 6 operazioni di cui 2 soltanto lo scorso venerdì e siamo a 158 tick di DAX e 50 su MIB. Non so se vi farò vedere sempre questa classifica, questa asset line voglio dire completamente aggiornata anche con i tick, però questo è ciò che chiunque può entrando nel gruppo premium, andando a vedere e anche lo scorso anno abbiamo una statistica decisamente alta. Questo perché? Perché facciamo trading in modo, con un metodo statistico, matematico non discrezionale. Allora, partirei un attimo dalla situazione attuale relativa appunto ai cicli superiori. Lato indice, la centratura più semplice è questa. Primo mensile finito a 40 barre, con un secondo già vincolato a ribasso, ok? Anche se qui potremmo avere una chiusura a 36 barre ma non avere chiusure da altre parti, soprattutto qui rispetto agli altri indici una chiusura a 20 barre non possiamo assolutamente averla. Quindi però ci teniamo a questa che è la centratura principale, ok? Quella in cui chiudiamo con la quarantesima barra e da questo dovremmo già sapere che cosa fare. Che cosa dovremmo fare? Avendo un mensile che è iniziato, ha fatto un primo ciclo settimanale ribassista, però, per farlo, partendo da qui, ok? È rimasto per sei giorni sopra questo minimo. Ha superato tutti gli altri massimi. Qui avrebbe già dichiarato la sua partenza ma soprattutto il suo vincolo a ribasso. A scendere per quanto tempo? Come minimo fino alla ventiquattresima barra che scadrebbe alla fine di venerdì 26. In media fino a quando? Fino alla trentaduesima, al 7 di febbraio e così via fino alla quarantatresima, come sapete. Di inverso torna tutto? Qui abbiamo avuto un primo mensile inverso, un secondo mensile inverso, un terzo mensile inverso e qui può essere partito almeno un altro mensile inverso. Per adesso abbiamo 8 giorni sotto un massimo e con 7 giorni sotto un massimo a noi che cosa interessa sapere? Interessa sapere che è stato violato lo swing non soltanto per un t inverso, un settimanale inverso. Non state capendo niente, t inverso, tutto il resto, eccetera. Basta che andiate sul mio canale, l'unico che può parlare di analisi ciclica evoluta o analisi evoluta, attenzione a chi la menziona perché non ne conosce assolutamente nulla perché determinate cose non vengono svelate, andare sulle playlist e successivamente alle playlist andare su quella relativa a Trading Days, che è un corso gratuito fatto da oltre 31.000 persone relativo appunto ai cicli e quindi a come si muovono i mercati con un metodo statistico matematico non discrezionale. In questo modo potrete comprendere esattamente che cosa sono tutti questi. T più 2 ciclo mensile, T1, T inverso voglio dire, ovvero ciclo settimanale di inverso, un inverso che parte da massimi e un ciclo che parte da massimi, va su minimi e torna su massimi e quindi disegna una U, ok? Tornando a noi, lato indice, per ora è confermato un mensile ribassista e quindi il vincolo a continuare a fare pochi rimbalzi e a scendere. A noi interessa però capire che cosa vuole fare questo settimanale, perché? Perché questo settimanale qui alla sesta barra rossa, tra l'altro, avrebbe la condizione necessaria e sufficiente per chiudere, ma potrebbe continuare a cercare discesa fino all'undicesimo giorno, fino quindi a giovedì 18, giovedì prossimo. Nel frattempo che cosa abbiamo di inverso? Perché qui c'è tanta lateralità fatta per confondere i trader e noi avete visto che però abbiamo fatto 6 operazioni gain su 6, ok? Qui abbiamo di inverso che possiamo avere avuto una chiusura a 6 barre più barra rossa di partenza per il nuovo settimanale inverso e due giorni sotto un massimo. Andiamo a vederlo direttamente qui sul grafico a 15 minuti. Qui abbiamo tutte le condizioni per aver fatto partire un nuovo settimanale inverso, ovvero 48 barre sotto questo massimo, più la violazione anche più di un semplice swing per la partenza di un settimanale inverso. Però voi mi direte, sì, però comunque ha provato a rimbalzare, a tornare verso l'alto e ha violato sicuramente il 50% di percentuale di Fibonacci tra questo massimo e questo minimo. Vero? D'accordo? E io mi aspetto in realtà che se non ci saranno raccordi particolari, visto che qui il primo ciclo giornaliero inverso non può aver chiuso a 22 barre e quindi ha chiuso qui a 40 barre, non può aver chiuso dopo, dato che con questo massimo abbiamo superato questo di massimo, si vada a chiudere con una salita, che cosa? Tutto un T-2 inverso. Perché qui abbiamo già un vincolo. Partito, superato il massimo di partenza, avrei dovuto valutare se mettermi long in overnight. Quindi ho messo un bel allarme qui per dire, ok, siamo già oltre la... anzi, siamo già arrivati alla 24esima barra. Non mi serve neanche una barra in più. Mi basta che si apra qui sopra, sopra questo massimo, a 30.587, perché si abbia la condizione necessaria e sufficiente per chiudere tutto un T-2 inverso e si inizia a scendere. Se vuole rimanere per un pochino più di tempo, magari anche 3-4 barre, sopra questo minimo, peraltro, potremmo far partire che cosa? L'ottavo T-3 inverso e poi a un certo punto vincolarlo anche a ribasso. Vedete, in testa non ho che cosa può arrivare dalle notizie, se ci sarà la Fed che parla, se ci sarà l'IPP, se ci saranno altre cose che, per carità, mi vado a vedere tutte le volte, vado a vedere domani che cosa c'è, nulla di particolare perché non ho un 3 stelle, vado a vedere questa settimana dove potrò essere disturbato, ok? L'IPC in Germania alle 8, l'IPC italiano alle 10, poi niente, quindi martedì passate le 10, passata la paura. Mercoledì alle ore 17, l'IPC annuale europeo interessante, ok? 3 stelle, vendita a dettaglio alle 14.30 e così via. Giovedì, sì, sempre 14.30 per i dati americani, ok? Indice di produzione della Fed, richieste iniziali di sussidi e disoccupazione. Venerdì, stessa identica cosa, discorso della Lagarde alle 11.00. Vendite e abitazioni esistenti alle 16.00, ok? Io mi vado a vedere le cose, ma so già che lunedì, per esempio, sono tranquillo e sereno e posso fare trading senza che nessuno mi dia fastidio. e se avrò prima un movimento di questo tipo, ok? Un'apertura così, poi io qui mi compro un bello short per vedere se si fa un po' di strada a ribasso. Abbiamo già la condizione necessaria e sufficiente per chiudere il settimanale? Sì, ma... e dopo il ma sapete che c'è la cosa importante all'interno di un dialogo, solitamente la verità, quello che veramente la persona vuole dire, e qui abbiamo un raccordo di grado T-4 tra un T-1 e un T-1. Quindi da qui potrebbe partire ancora un T-1. Qui potrebbe non essere finito il settimanale su questo minimo. Io ho provato ad andare a scomporre in maniera diversa e ci si può anche arrivare, alambicandosi, perché qui abbiamo 21 barre. Qui io posso trovare 38 barre, 43, posso dirvi che il quinto T-3 può aver fatto così e magari c'è un raccordo che ci porta a... quindi, ok, mi tengo il dubbio soltanto che qui sia partito un settimanale o meno, ma per il resto, come vedete, il mio programma, dato che l'inverso è molto più chiaro, è già pronto, ok? Se aprono in questa zona, valuto se mi danno, se il tecnica 2 mi dà un long, ok? Perché può essersi chiuso il T-3, il ciclo T-3, e si può rimbalzare per farne partire uno nuovo. Se mi apre qui e mi trovo già sopra questo massimo, inizio a valutare uno short, a meno che ovviamente non si vada qua sopra. È tutto collegato, tutta matematica, non c'è nient'altro che mi interesse a livello di notizie se non evitarle. Perché? Perché siamo andati da troppo tempo in lateralità. Sì, sì, abbiamo fatto il rally di Natale che avevo raccontato su Money.it, a Bempe Paribas, durante le sessioni di House of Trading e tanti altri posti, d'accordo? Quindi, l'abbiamo avuto? Sì, l'abbiamo avuto, fantastico, perché abbiamo continuato a cercare top fino al 14-12, poi siamo andati in lateralità e poi abbiamo ancora fatto un massimo assoluto il 2 di gennaio, ok? Adesso mi interessa capire se da qui vuole partire come minimo un mensile inverso e abbiamo già tutti i crismi per poterlo fare, oppure se fatte 107 barre di semestrale inverso vuole partire qualcosa di più per fare un po' di strono da quando siamo andati a far partire il nuovo annuale lato indice che è già 54 barre e quindi è già un trimestrale che lo lancia e che gli dà l'ok per partire, ok? Direi che è tutto, quindi ci prepariamo a vedere che si ritorni sopra questo massimo prima di valutare uno short se non andremo ovviamente qui sopra. Vi ringrazio per il vostro tempo e se questo aggiornamento vi è piaciuto mettete un bel like e consigliate a tutti il canale in modo che si ritorni Grazie a tutti.